Io sono Antonella Teresa Sincletica della Carità di Cristo, per vivere fedelmente in unione con la Vergine Maria, nello secchio di Gesù Cristo, davanti alle mie sorelle, nelle tue mani, Madre Maria Francesca Eugenia del Cuore di Gesù. Per sempre faccio voto a Dio di castità, povertà e obbedienza secondo la regola e le costituzioni dell'ordine delle monache scalse della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Mi dono con tutto il cuore a questa famiglia iniziata da Santa Teresa, affinché, con la grazia dello Spirito Santo e l'aiuto della Madre di Dio, nella perenne orazione e nella negazione evangelica al servizio della Santa Madre Chiesa, raggiunga la carità perfetta e glorifichi in eterno la Trinità Santissima.